Benvenito e benvenita a una nuova pildola video per apprendere l'italiano di una forma creativa e visuale e molto più divertita. Oggi avremo un altro esempio di falsi amici per non caere in questa trampa. L'esempio che ho creato oggi è per la parola caldo. Caldo in italiano significa, cioè la parola italiana caldo, in spagnolo significa calore. Non significa il caldo che noi comiamo. E' un falso amico, perché in italiano tiene un significato e in spagnolo la misma parola con il mismo sonido tiene un altro. Come possiamo fare per soluzionare questo problema? Creando una associazione impactante tra la immagine del significato della parola in italiano e la immagine della parola che tiene il mismo sonido in spagnolo e che tiene una immagine clara. In questo caso, nostra sopita, è dicer, il brodo. In italiano si chiamano il brodo. Asi che è lo che vamos a se? Passo numero uno, vamos a creare una immagine del significato della parola italiana caldo. Ok? Che seria in spagnolo calor. Come potevo immaginarlo? Puoi immaginarmi a me misma che tengo moltissimo calor, che sto sudando, che tengo tutta la roba impapata di calore e che sto con l'abbanico dandomi aereo delante del ventilatore. E questa è la immagine del significato di caldo, che seria calor. E ora, vamos a creare una immagine della parola in spagnolo che tiene un sonido parecido, in questo caso il mismo, di caldo. E qual è la parola? Caldo è la nostra sopita. Asi che, me immagino che me sto tomando una sopita. E ora, crea una situazione impactante. Me immagino che tengo moltissimo calor, che sto impapata di sudore, che sto delante del ventilatore, sto buscando un alivio a este calore, di caldo, e, para soluzionarlo, me dan un plato enorme di caldo, para comermelo, e la situazione impeora mocissimo. Asi che, quando pensare, come si dice in italiano calor? Qual è la immagin che llegherà a mi mente? Io, impapata di sudore, allì, buscando un alivio a este calore, e me dan il caldo. Asi che, mi mente cogerà rapidamente questa informazione e si accordarà che calore in italiano si dice caldo. Nos vemos nel siguiente video. Hasta luego.